E' vero, dottor Curti, che anche i funghi secchi vengono importati? Mi risulta che la gran parte della produzione sia di provenienza dei paesi dell'est, Jugoslavia, c'è qualcosa addirittura che inizia ad arrivare dal continente africano. C'è qualcosa però di poco chiaro, secondo lei c'è la possibilità che questi funghi che vengono dall'est possono essere in qualche modo pericolosi. Il comandante Datti dice che no, che è tutto regolare. Io ritengo che comunque un po' di attenzione su questa materia, che tra l'altro è delicata, deve essere posta. Forse i controlli dovrebbero essere non episodici e quindi su, non dico tutte le partite che sarebbe impossibile, ma una maggiore attenzione dovrebbe essere.